Rinnovato in prefettura un protocollo d'intesa per la gestione della siccità nel Fucino, anche per la stagione 2024, diversi comuni che hanno aderito e varie associazioni di categoria con i consorsi di bonifica, un tavolo al quale ha preso parte il vicepresidente della regione Abruzzo Emanuela Imprudente, che è anche assessore all'agricoltura, che ha condiviso le riflessioni del prefetto sul tema della siccità, auspicando il rispetto da parte di tutti i soggetti. Con l'attivazione del protocollo in vigore dal 15 maggio sino al 31 agosto, i sindaci si impegnano con opportune ordinanze a provvedere alla sospensione dell'irrigazione dei terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale. Sono stati stabiliti anche gli orari. La prefettura, in un'ottica di collaborazione istituzionale, si impegna a promuovere delle verifiche di monitoraggio e ad assumere ogni elemento informativo utile alla gestione della siccità con l'apporto di una cabina di regia. È un documento importante che, oltre a tutelare gli interessi degli addetti alla filiera dell'agricoltura, permetterà di evitare lo spreco dell'acqua, che è un bene comune, una risorsa indispensabile. Sì, questo protocollo, firmato insieme al prefetto, è uno strumento molto importante, con un accordo con i sindaci per gestire al meglio quella che è la risorsa acqua, nel caso dovesse esserci un momento di crisi durante la stagione estiva, che, come sappiamo, è fondamentale per quello che è l'Orto d'Italia. Il fucino nella scorsa stagione è stato anche caratterizzato da grandi danni del maltempo e molte aziende sono entrate in difficoltà. Ma la situazione è in via di risoluzione, anche perché la regione sta sempre vicino alle aziende e alla situazione in generale dell'agricoltura abruzzese. Il fucino ha avuto dei problemi su alcune parti del territorio. È una stagione complessa, articolata, dove alcuni territori hanno avuto, e alcune aziende, dei danni legati alla possibilità di non poter utilizzare il raccolto perché le condizioni meteo hanno allagato sostanzialmente i campi. Poi è stata una stagione complicata perché al netto di questo tipo di difficoltà sono aumentati i costi, sono aumentati i prezzi e nel complesso ci saranno anche dei provvedimenti che andranno a sostegno per quelle che possono essere le difficoltà che hanno avuto incontro, come c'è stato il problema della peronospora in generale, soprattutto sulla vite che ha generato delle difficoltà enormi.